E' la mostra fotografica L'Istria, l'Italia e il mondo, storia di un esodo, istriani, fiumani e dalmati a Torino, nelle vetrine dell'ufficio Relazioni con il Pubblico di via Arsenale 14G a Torino, il centro delle iniziative del Consiglio regionale del Piemonte per il giorno del ricordo che si celebra il 10 febbraio. 16 pannelli curati da Enrico Miletto in esposizione fino al 26 febbraio che raccontano la fuga degli italiani nel 1947 dalla terra d'origine sulla costa jugoslava, verso l'Italia e Torino, alle casermette di Borgo San Paolo fino alle case rosse nel quartiere Lucento. Un progetto realizzato dall'Istituto Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea di Torino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Le vetrine dell'URP ospitano anche alcuni volumi della Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte disponibili per il prestito su prenotazione. Nell'ambito delle celebrazioni del giorno del ricordo si segnala anche la presenza di Stefano Allasia, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, a numerosi incontri a partire dal seminario di studio online 900 di confine, ricerche e comunicazione di martedì 9 febbraio. È una ricorrenza importante nel nostro calendario civile. Un atto dovuto è necessario perché la tragedia delle foibe e l'esodo dell'Istituto e della Dalmazia sono una ferita sulla quale nel nostro paese era stata stesa per troppo tempo una densa cortina di silenzio. Ricordare questa tragedia ci rende tutti più forti e credibili nella difesa e nell'affermazione dei valori fondamentali sui quali è nata e si è costruita la nostra Repubblica. Il 10 febbraio intervento del Presidente all'Asia, anche a Carmagnola e in Comune a Torino in Sala Rossa. Sempre il 10 febbraio, al Polo del Novecento, grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, evento online alle 18, la frontiera orientale, guerra, foibe, esodo. Mentre fino alle 20, in diretta dalla web radio del Fondo Tullio De Mauro, l'incontro adotta un negazionista.